In diretta da Medio del Corpo Saldo, per il menù su tutti gli amici Palamare, stiamo in attesa che parla il 62esimo giro della provincia di Reggio Palamare. Troppo i provitori rispereranno che per gli asti di partenza ci saranno di conseguenza attività. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.